Maurizio Musci, ex capogruppo di missionario del partito di maggioranza relativa, Antonio Ruggero, amministratore unico di missionario dell'azienda dei rifiuti, ed Edoardo Savo Iardo, funzionario dell'ufficio Appalti. Le accuse per tutti sono pesanti, associazione per delinquere, concussione, corruzione elettorale, turbata libertà dei pubblici incanti. Mentre l'indagine sembra tutt'altro che chiusa, oggi si attende la comunicazione del sindaco circa le sue dimissioni. Decisione non scontata, poiché il Tribunale del Riesame, al quale si sono rivolti i legali del primo cittadino, potrebbe revocare la misura cautelare consentendo al sindaco di proseguire nel suo mandato.